carissimi amici radioascoltatori un caro saluto a tutti voi da Denise Arceri oggi abbiamo il piacere di avere in linea la professoressa Agata Pisana presidente del consultorio di ispirazione cristiana e di Ragusa con lei parleremo ripercorreremo un po' questo anno e quello che è emerso da questo anno innanzitutto Agata grazie per aver accettato il nostro invito e ben trovata grazie grazie a voi per questo invito e un saluto caro a tutti gli ascoltatori Agata ci siamo sentite giusto qualche giorno fa per appunto presentare l'iniziativa del 24 il momento la cerimonia di inaugurazione ed intitolazione del consultorio familiare di ispirazione cristiana a Don Romolo Taddei oggi vorrei chiederti come è andata la giornata raccontaci sì grazie è andata abbastanza bene ha avuto il sapore di quelle cose fatte col cuore la sarecce perché eravamo proprio degli intimi se vogliamo non più di un 20 persone anche per evitare gli assembramenti a causa del covid quindi la giornata era una bella giornata il tempo ci ha aiutato non c'era vento non pioveva per cui di pomeriggio abbiamo ci siamo raccolti là davanti al consultorio dove ci sono eh dove c'è la insegna e dove abbiamo fatto mettere anche una targa col nuovo logo purtroppo il vescovo che sopra c'era promesso che sarebbe venuto non è potuto venire e lo stesso è il sindaco che mi ha mandato un messaggio dicendo che aveva stava poco bene quindi era impossibilitato e mi ha promesso che ci verrà a trovare altre volte così come il vescovo è già venuto una volta a trovarci però c'erano i due due addirittura fondatori che erano il padre Giovanni Salonia il professore ex preside del liceo scientifico Tanino Lomonaco e c'erano anche ex presidenti Tanino stesso che è stato il primo presidente infatti poi ci siamo fatti la foto io e lui perché eravamo il primo e l'ultimo e poi c'erano anche il dottore Dino La Terrabella c'era il dottore Pino Sapienza il professore Mimmo Mandala tutti ex presidenti avevamo invitato anche gli altri presidenti che però per motivi insomma personali poi obiettivamente era il 24 pomeriggio quindi anche impegni familiari o c'erano problemi di salute non hanno potuto essere presenti però ci hanno fatto arrivare loro la loro presenza col cuore con saluti verbali è stato scelto come momento proprio il 24 dicembre perché sarebbe stato l'ottantesimo compleanno di Don Romolo noi abbiamo potuto purtroppo festeggiarlo solo così purtroppo perché appunto avremmo voluto fargli una bella festa rompere con lui stappare lo spumante insomma tagliare una bella torta come strameritava però abbiamo in ogni caso fatto una cosa credo abbastanza carina questo fatto di intitolare il consultorio a lui come proprio segno visibile di quanto lui ha dato al consultorio e di quello che il consultorio è in risposta al suo stile al suo impegno alla sua dedizione a tutto quello che lui ci ha donato veramente abbiamo messo sopra l'insegna precedente l'insegna cioè abbiamo messo un telo con l'insegna precedente e poi con una breve cerimonia presenziata dal nostro consulente ecclesiastico che è fra Giuseppe Pecorella che il vescovo stesso va provveduto a incaricare in sua sostituzione in sua vece abbiamo tirato giù questo telo fra insomma gli applausi dei presenti è stato un momento molto di grande commozione c'era quasi tutto il consiglio direttivo presente e cioè la vicepresidente Emma Occhipinti il tesoriere che è Angelo Battaglia altri consiglieri che sono per esempio Gianna Chessari o Maria D'Angelo e poi c'era la direttrice che la professore e la dottoressa psicoterapeuta Maria Pina Cascone infatti io ho tirato giù il telo come presidente il telo della insegna e la direttrice invece ha scoperto il telo che nascondeva che copriva la targa il abbiamo stappato c'è stata una preghiera c'è stata qualche condivisione dei ricordi dei ringraziamenti naturali c'era anche presente il CAV il centro aiuto alla vita che poggia proprio su di che ha sede presso il nostro consultorio con cui c'è una grande collaborazione è stata una breve cerimonia però sentita c'erano anche rappresentanti dell'altra grande realtà che Don Romolo ha fondato che è due ali per volare e poi ci sono arrivati ma erano impossibilitati a partecipare anche i saluti affettuosi dell'altra ancora organismo che lui ha creato che sono i genacoli delle famiglie con sede a Scicli è stato bello pochi minuti ma proprio sentiti tutto cuore stato secondo il suo stile lo stile di verità e di grande calore ecco grazie Agatha adesso invece proprio vorrei ripercorrere insieme a te questo anno chiedendoti quali sono stati i bisogni le urgenze le domande che durante questo anno particolare avete intercettato nel nostro territorio abbiamo avuto un aggravarsi notevole delle sofferenze che accusano le persone che si rivolgono in consultorio proprio noi fra l'altro siamo un consultorio familiare ed ispirazione cristiana ma è un consultorio quindi non siamo un luogo dove possono non siamo uno studio un po' le ambulatorio non siamo una realtà in cui è possibile avviare percorsi di psicoterapia veri e propri ne possiamo ne abbiamo volontari che si sono psichiatri e quindi abbiamo avuto veramente difficoltà a dover ascoltare le richieste di persone che invece tante volte manifestavano proprio dei disturbi molto più seri di quelli che un consultorio può soccorrere abbiamo avuto tante tante richieste molte sul versante della preoccupazione dei genitori per i figli i figli un po' hanno risentito soprattutto gli adolescenti della didattica a distanza della impossibilità a mantenere i rapporti con i coetanei a partecipare alle attività sportive alle attività anche ricreative semplicemente di comitiva di compagnia e sono stati male sono ragazzi che stanno male che a volte hanno perso anche l'idea stessa di uscire che si stanno chiudendo in casa si stanno lasciando condizionare molto da relazioni virtuali relazione a distanza si stanno quasi disabituando alla relazione occhi negli occhi alla relazione in presenza sono arrabbiati e hanno anche ragione di esserlo e come no però la loro rabbia poi non ha canale di sfogo perché purtroppo contro questa situazione non abbiamo con con chi prendercela c'è un giovane non ha un interlocutore verso cui canalizzare la propria rabbia perché non può uscire perché non può abbracciare perché deve stare attento perché deve tenere la mascherina e allora diventa una rabbia che spesso e volentieri si riversa su se stessi proprio perché non può essere espressa all'esterno e diventa anche una rabbia con manifestazioni di autolesionismo che sono molto 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 pericolosi e che fanno soffrire tanto i genitori molto preoccupati tant'è vero che abbiamo accolto la richiesta di una mamma che ha vissuto queste sofferenze negli anni scorsi nella propria figlia e che lavora nel mondo della scuola e vede anche tanta sofferenza attorno e che è una volontaria del centro aiuto alla vita e che sta collaborando col consultorio per uno sportello di ascolto dei genitori l'abbiamo chiamato centro ascolto genitori CAG con quest'acronimo abbiamo un numero di telefono dedicato con la possibilità di telefonare 24 ore su 24 semplicemente per dire io accolgo la tua richiesta non sei solo genitore ti contatterà domani mattina alla segreteria del consultorio sarai avrai degli incontri con del personale formato ad hoc per poter proprio ricevere se non altro anche delle informazioni cioè delle dritte perché che un adolescente sia ribelle è normale ma che un adolescente non si voglia alzare la mattina nemmeno per collegarsi il primo il secondo il terzo giorno che poi significa anche non voler avere o sentire troppa sofferenza per le relazioni con i pari o con la scuola e allora quello non è normale non è normale nel senso che non fa parte delle caratteristiche dell'età delle caratteristiche evolutive perché ribellarsi ai genitori è evolutivo rifiutare l'incontro con i pari in età adolescenziale non è evolutivo e quindi secondo avere ecco la possibilità di dare a dei genitori qualche dritta su questo di indirizzare verso volontari specializzati su queste cose rassicurare dare degli input su come poter insomma mantenere il rapporto vivo e fresco con i propri figli abbiamo cercato proprio di ascoltare questo bisogno così pressante abbiamo avuto tante altre richieste come sempre di non solo ecco di sostegno alla genitorialità non solo di malessere dei giovani ma anche di difficoltà all'interno della coppia di disorientamento e quindi di aiuto per le scelte di vita perché tanti hanno anche avuto difficoltà col lavoro ci sono state veramente delle manifestazioni di acutizzazione di quello che a volte è un tipo di problema che si sa affrontare e che invece adesso con questo clima con queste difficoltà con questo malessere non si sta riuscendo a sostenere quindi si chiede aiuto e ringraziamo il signore veramente che ci sia questa disponibilità a chiedere aiuto e ringrazio anche tutti i nostri volontari perché se c'è tanto passaparola vuol dire che si rimane molto contenti altrimenti non verrebbero come succede giornalmente perché abbiamo intorno a 23 richieste di aiuto al giorno e sono tante in un anno e non non succederebbe altrimenti che molti dicono sto telefonando perché mi ha dato il numero mia moglie cugina sorella la vicina di casa vuol dire che c'è un passaparola di persone che restano molto soddisfatte di questo non posso che ringraziare la direttrice innanzitutto e tutti i nostri volontari abbiamo avuto anche delle richieste di persone che hanno perso i propri cari per covid e quindi non hanno potuto salutare è una proprio una fase necessaria per l'elaborazione del lutto l'ultimo saluto l'accompagnamento negli ultimi istanti della vita questo vuoto che rimane sul non sapere cosa diceva cosa come stava in quei momenti non aver potuto accarezzare quel corpo e infatti fra i tanti corsi attivati adesso per il 2022 ce n'è anche uno specifico per l'elaborazione del lutto la prima volta che lo teniamo perché io mi occupo di elaborazione del lutto da 15 anni per i genitori che hanno perso i figli in questo caso invece sono proprio per elaborazione per perdite di persone care in generale non per forza i figli e proprio per aiutare perché c'è tanto tanto bisogno veramente tantissimo c'è un pullulare di malesseri multiformi e quindi anche noi ci stiamo formando stiamo cercando di seguire corsi in più di iscriverci master per avere una oltre a tutta la professionalità che già abbiamo oltre a tutti i percorsi formativi che abbiamo sostenuto ognuno di noi perché per essere la siamo professionisti che hanno già un bel curriculum però ci stiamo attivando per fare ancora di più per poter dare un servizio che sia sempre più mirato sempre più efficace sì è stato un anno pesante e credo che il prossimo non sarà da meno sicuramente abbiamo anche continuato a fare tanti corsi ben quattro di corsi di preparazione al parto sono coordinati dal professore mimmo mandala e questi corsi e li abbiamo tenuti anche online perché al di là della covido altro i bimbi nascono le mamme si devono preparare parti e quindi li abbiamo fatti online non abbiamo fatto mancare mai questo sostegno a tutte le future mamme abbiamo fatto anche dei grandi passi avanti dal punto di vista diciamo tecnico burocratico perché ci siamo dotati con grande fatica con grande attenzione ci siamo dotati di un nuovo statuto che è adeguato alle nuove leggi sui clienti del terzo settore per cui non siamo più hollus non è più previsto dalla legislazione siamo un'odv un'organizzazione di volontariato e abbiamo fatto richiesta per far parte proprio del rums che è il registro unico nazionale del terzo settore la novità della legge per e che ci permetterà di collaborare ulteriormente ancora più pienamente con il territorio di offrire servizi sempre più calzanti diciamo con le richieste della popolazione in genere di tutta la popolazione grazie agata per aver ripercorso questo anno facendo emergere anche l'impatto psicologico emotivo che la situazione determinata dall'emergenza sanitaria sta determinando nella nostra società siete un presidio competente per sostenere le varie fragilità che attraversano la nostra società ma anche un punto di riferimento appunto per le emergenze che si manifestano nella nostra società vorrei anche sottolineare l'impegno che avete nel cercare di ricostruire una cultura familiare capace di rispondere alle sensibilità odierna e ti vorrei chiedere come si dovrebbe come si sta evolvendo si dovrebbe declinare oggi l'accompagnamento familiare a tuo avviso ti ringrazio per questa domanda perché è una domanda proprio che coglie il focus del diciamo dell'obiettivo io credo che la come diceva qualcuno quando ci sono problemi la cosa più importante rimanere seduti saldi nella propria sedia è veramente oggi al di là di qualsiasi tempesta culturale sociale sanitaria si sta sviluppando attorno a noi dobbiamo restare ancorati all'umano l'umano è la persona proprio che è fatta per vivere con vitalità per instaurare relazioni che siano nutrimento sia per me che per te che sia un essere che attorno a sé crea sicurezza serenità affetto che è presente nei bisogni di chi lo circonda che sa chiedere e che sa dare perché tante volte anche molto molto importante saper chiedere è una cosa che non sappiamo fare allora penso che la famiglia va aiutata oggi a rimanere quello che è a rimanere un luogo di crescita di vitalità di calore crescita vitalità calore e questo è un identikit dell'essere famiglia che va bene sempre in qualsiasi circostanza storica anche in piena guerra mondiale o in periodi di grande benessere o in periodi di malessere in strati sociali economicamente molto svantaggiati o strati sociali molto più fortunati dal punto di vista economico cioè è proprio un essere quello che siamo dove le differenze fra maschile e femminile le differenze fra generazioni sanno dialogare con la sicurezza che ognuno può ricevere qualcosa dagli altri e può dare agli altri credo che proprio è questo quello verso cui dobbiamo andare non lasciarci confondere dal da quello che ci succede attorno vivere sicuramente il presente sapere dove siamo sapere cosa ci succede attorno però non lasciarci condizionare perché noi viviamo in famiglia per crescere insieme per stare bene insieme per sentirci vitali insieme per ricevere quel calore che mi permette poi di fare tutto quello di cui avrò bisogno nella vita e questo deve restare proprio il nostro obiettivo curare questa relazione familiare se la relazione familiare ben nutrita ed è viva e allora poi sapremo affrontare il lutto la malattia la perdita del lavoro le notizie in fauste sapremo gioire sapremo brindare sapremo godere sapremo valorizzare sapremo affrontare tutto però dobbiamo restare sempre con questo tipo di serenità siamo una famiglia dobbiamo restare famiglia esseri umani che stanno insieme e che stanno insieme ripeto per crescere insieme per sentirsi vitali per darsi calore a vicenda credo che proprio non smarrire questo senso del chi sono è fondamentale ascoltandoti sono ultimamente tre verbi accogliere discernere integrare che troviamo anche tra le parole chiave di amore e seletizia vorrei concludere questa intervista con un tuo augurio per le famiglie per gli ascoltatori che ci ascoltano e per il consultorio partendo proprio da questi tre verbi sono tre verbi fondamentali accogliere io direi che si integrano fra di loro e che e che diventano tutto l'unica cosa nell'essere vitali nell'essere vita che sa accogliere che sa discernere che sa andare avanti che sa dare che sa ricevere la moris seletizia è un po un valdemecum per noi e poi fra l'altro quest'anno ricorre il quinquennio il primo quinquennio dalla pubblicazione nel 2016 e quindi abbiamo fatto tanto lavoro anche a livello di rete dei consultori di confederazione sono in pubblicazione delle parole della moris seletizia che sarà un testo con il contributo di tutti i consultori e di tutti i consultori italiani 203 consultori familiari di ispirazione cristiana raggruppati per regione ogni regione si è occupata di un sottolineare una parola della moris seletizia a noi come sicilia è stata affidata la parola tenerezza e credo che ci sta perfettamente questo forse tenerezza come capacità appunto di coniugare questi tre verbi come capacità di avere il cuore tenero nel senso di un cuore caldo ma di un cuore anche la radice unica tenax cioè tenace che non molla che non si abbatte non si scoraggia e che va avanti anche col giusto aiuto che può essere quello dei consultori o di chi ogni caso sa prendersi cura l'augurio è proprio questo restate teneri e tenaci io ringrazio la professoressa agata pisana per essere stata con noi grazie mille agata grazie io mi permetto non vorrei ecco magari nel discorso mi è sfuggito ne avevamo già parlato la volta scorsa vorrei approfittare dato che parliamo del consultorio della nuova nuova denominazione del consultorio a Don Romulo Taddei vorrei anche ringraziare la Irene Meli che è una grafica di professione che è autrice del logo e che ce l'ha gentilmente donato proprio sia come ideazione che come realizzazione vorrei ringraziare voi che vi mettete a disposizione per far conoscere questa realtà di servizio e ringraziare ancora Don Romulo innanzitutto per quello che ci ha dato il tutti gli operatori la direttrice e il signore che ispira questa realtà a cui chiediamo proprio di darci ancora tanta tanta forza per restare teneri e tenaci nel servizio grazie e noi agata ringraziamo ancora una volta te saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori per averci seguito a presto Denise Arcelli a presto a presto a presto